10 vittorie, 10 sconfitte consecutive e finalmente avete svoltato questa vittoria forse l'allenamento mattutino è servito un po' nell'orgoglio no, non è servito, magari sì, magari è servito anche quello o magari io ti sto dicendo no per non farne un altro, non lo so fatto sta che non credo, allora magari è facile pensare è scattato qualcosa non lo so, orgoglio, qualcosa dentro sicuramente è scattato ma noi non è che abbiamo giocato sempre male e perdevamo giocando male abbiamo anche fatto delle buone partite però perdendo quelle buone partite oggi si sono tramutate in una vittoria poi è ovvio che c'è anche tanto lavoro dietro c'è tanto lavoro durante la settimana e anche quella mattina alle 7 magari è scattato qualcosa e oggi ho visto tanto orgoglio dopo il 2 a 0 ho visto tanta rabbia che è quello che ci serve vittoria da ex che ci tenevi particolarmente sì, 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 ci tenevo particolarmente è una società a cui voglio molto bene perché sono stato bene e gli auguro un buon campionato adesso si prova a fare un girone di ritorno degno del nome che portiamo sulla maglia